Buona e santa serata a tutti, bentrovati, vogliamo scambiarci il dono della buonanotte ma soprattutto invocare su di noi, sui nostri cari, sulle nostre famiglie, sui nostri affetti la santa benedizione del Signore. Il Salmo che abbiamo ascoltato quest'oggi nella liturgia della parola, il Salmo 18, Così ci invita a pregare, i cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento, il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alle notte ne trasmette notizia. Sant'Agostino diceva che l'uomo è la gloria di Dio vivente, allora vorrei chiedervi quanto noi siamo la gloria di Dio, quanto ci comportiamo da gloria di Dio vivente. Diciamo grazie per tutti i benefici, affidiamoci alla misericordia del Signore che possa vegliare sempre su di noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, dei secoli. Amen. Invochiamo come sempre l'aiuto, la protezione e la custodia degli angeli santi. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci. Reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti e a domani. Vi voglio bene, assai, come si dice dalle mie parti.